I Ferragnez cambiano registro, niente più foto di minori su, o meglio, si ma di spalle. Da ieri Fedez e Chiara Ferragni nascondono i figli, mostrandoli solo girare. Leone e Vittoria non si vedono più in volto, come invece è sempre accaduto, motivo per cui l'ormai ex coppia è stata spesso accusata di sovraesporre i figli, dando l'impasto a Miglio. Leone e Vittoria non si vedono più, un tema che si allarga a macchia d'olio quando si parla di influencer e che verrà discusso proprio domani per una proposta di legge. Potrebbe essere questo il motivo che ha portato Fedez e Chiara Ferragni a invertire improvvisamente rotta, soprattutto considerando che di beghe legali da risolvere ne hanno già pari. Il compleanno di Leone è stata la prima occasione in cui i bambini non si sono visti in faccia, a partire dalla foto scattata in casa con il primo genito abbracciato alla mamma, poi stretta alla... Il compleanno di Leone è stata la prima occasione in cui i bambini non si sono visti in faccia, a partire dalla foto scattata in casa... Insomma, il vento sembra decisamente cambiato, e se ormai la strategia comunicativa dei due è deragliata su binari diversi, l'unica direzione comune in merito è proprio sui figli. Un post condiviso da Chiara Ferragni Stelline Chiocciola Chiara Ferragni Un post condiviso da Chiara Ferragni Stelline Chiocciola Chiara Ferragni Un post condiviso da Fedez Chiocciola Chiocciola Chiara Ferragni